Punta a rafforzare il sistema lattiero caseario italiano, l'operazione presentata da Granarolo all'Expo. Liliana Fabri. Sono la vetrina dell'Expo e in particolare la giornata del latte a fare da sfondo all'annuncio di un importante partnership fra Granarolo e Col Diretti. Il colosso italiano del lattiero caseario entra in centrale del latte di Brescia. L'operazione con l'aumento del capitale sociale di 2 milioni di euro interamente sottoscritto da Granarolo mira a valorizzare il comparto lattiero caseario italiano in difficoltà dopo la fine del sistema comunitario delle quote latte. Abbiamo un mercato che soffre, dobbiamo lavorare sul mercato per creare condizioni di maggiore appeal per questo prodotto nazionale e internazionale. e poi dobbiamo lavorare insieme. Il vero messaggio è il momento di trovare delle occasioni di intesa. Anche il ministro delle politiche agricole Martina sottolinea l'importanza di iniziative che possano aiutare gli agricoltori ad uscire da questa fase. La filiera lattiero casearia è una vetrina formidabile per l'agroalimentare italiano. Basta pensare alle nostre DOP di qualità, possiamo fare ancora tantissimo, abbiamo bisogno di fare squadra. La giornata del latte ha coinvolto anche il pubblico dell'Expo, invitato a provare a camminare con una bottiglia o tannica di latte sulla testa. Iniziativa benefica legata all'Africa Milk Project del CEFA, premiato come migliore best practice in tema di alimentazione.